Il 17 marzo nuovo appuntamento per la sesta edizione del Gala dei Cavalieri. Ne parliamo con il Presidente intercomunale ANIOC Giovanni Mirulla. Allora, di cosa si tratta? Dunque, l'ANIOC è l'associazione che raggruppa gli insigniti di onorificenza cavalleresche, ossia gli insigniti di tutti gli ordini riconosciuti dallo Stato italiano. Il Gala dei Cavalieri, che è una manifestazione che si tiene annualmente un po' in tutte le province d'Italia, a Viterbo è giunta alla sesta edizione e è una conviviale che è destinata ad azioni di beneficenza. Nel caso specifico quest'anno è confermata che il fondo raccolto con questa iniziativa viene destinato per il 50% all'associazione Gianini e Gianetta, a sostegno dell'opera di padre Stefano Scaringella nella missione Città di Viterbo in Madagascar, e l'altro 50% in onlusso legate al territorio. Le onlusso legate al territorio quest'anno sono l'associazione Madre Maria della Vita, l'associazione Pasfa per l'assistenza spirituale alle forze militari, e la terza è l'associazione di impegno cattolico che destinerà i fondi all'Unione Ciechi, in parte all'Unione Ciechi. Abbiamo detto appuntamento il 17 marzo, dove e a che ora? È nel Chiostro del Sangallo della Quercia, questa è la novità, mentre gli altri anni si era tenuto presso l'angar del reggimento Scorpione, da quest'anno cambia sede ed è nel Chiostro del Sangallo, e sarà preceduto di una messa alle 19 all'interno proprio del Santuario della Quercia.